Caderra per ostacolare la rimessa. Pedroni. E la palla della ritorna da Bischetti! L'ABC Servizi Arezzo si aggiudica un'emozionante sfida contro il basket Cecina e in anella la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie B. Come nelle previsioni della vigilia è stata una partita dura che gli Amaranto hanno saputo portare a casa grazie ad una grande determinazione nei momenti decisivi. Partenza con ritmo controllato e basse percentuali di irrealizzazione. Arezzo paga due falli in un minuto di Bischetti che viene messo in panchina precauzionalmente da coach Fioravanti ma tutta la squadra non riesce per merito dell'avversario ad essere fluida offensivamente. Il primo quarto si chiude così in parità a quota 13. Poi Cecina prova ad allungare. Buzzo ne prenga però accorciano le distanze e permettono all'ABC Servizi di chiudere un momento non facile andando a riposo sotto di tre lunghezze. L'inizio del terzo quarto è tutto marchiato e Amaranto con i ragazzi di coach Fioravanti che provano a spingere sull'acceleratore. L'ABC Servizi sulle ali dell'entusiasmo tocca il massimo vantaggio di 50-39. Nel momento di maggiore difficoltà la reazione di Cecina è affidata al miglior giocatore Saccaggi che piazza due tiri da tre consecutivi che tengono gli ospiti agganciati alla partita. Il quarto si chiude sul 55-49 per l'Arezzo preludio a 10 minuti finale di fuoco. Entrambe le squadre commettono molti errori poi l'ABC Servizi segna con scorti che è assistito da Toia riprendendosi otto lunghezze di vantaggio. In attacco gli Amaranto hanno qualche passaggio a vuoto che permettono agli ospiti di rosicchiare punti. La sbarra agisce e la tripla del numero 14 fa esultare il palo a Sportestra. Saccaggi poi dalla lunetta ha l'opportunità del pareggio ma sbaglia il primo dei tre liberi e proprio a disposizione. Dall'altra parte prenga appoggio a tabellone il nuovo più tre per la squadra di coach Fioravanti. Pedroni sbaglia la tripla del pareggio. Nel successivo possesso la sbarra non riesce a segnare ma mangia tutti i 24 secondi a propria disposizione. Toia commette fallo mandando ai liberi Pedroni che non sbaglia ma dall'altra parte sempre toia. Ripaga con la sesta moneta gli avversari segnando i liberi del 68-65. Da Prato chiama timeout per gestire l'ultima rimessa ma la difesa retina non si fa sorprendere. con un recuperato firmato da Cadere Bischietti suggella una vittoria sudata ma importantissima ai fini della classifica. Il quarto successo consecutivo lancia la BC Servizia al secondo posto in classifica in attesa della trasferta del prossimo turno alla Spezia. Avversario storicamente ostico per i colori amaranto. Soddisfatto la vittoria, la prestazione come dico sempre si può far meglio. Sicuramente i primi due quarti abbiamo giocato tanto sotto ritmo, sapevamo che Ciacina era una squadra che ci poteva dare noia al rimbalzo d'attacco e l'abbiamo sofferti. Poi il terzo quarto siamo riusciti a cambiare marcia sia in attacco che in difesa e andare sopra. Poi ovvio che negli ultimi tre minuti la gestione è stata un po' da più otto a pari e poi giocassero all'ultimo tiro è da rivedere però fondamentale è vincere e poi al resto ci si pensa.